Il Movimento 5 Stelle farà le sue consultazioni, non chiamatele però primarie, trattasi infatti di regionarie. Non costano nulla, non pesano sulle spalle dei calabresi ed è il metodo consueto con il quale i pentastellati selezionano i loro candidati. Rigorosamente online, un sistema già collaudato in Abruzzo ed in Piemonte e che verrà utilizzato a settembre dai seguaci di Grillo e Casareggio per scegliere tra gli iscritti certificati la rosa degli aspiranti consiglieri regionali e da qui anche il candidato alla presidenza della regione. Tutto con l'ausilio del web. In Calabria però il Movimento risulta diviso in due tronconi. Da una parte il gruppo composto dalla Vibone Seneci, dal Catanzarese Parentela, dalla regina Dieni e capeggiato dal senatore Cosentino d'Adozione Nicola Morra. Dall'altra il resto della truppa parlamentare pentastellata rappresentata da barbanti e molinari, frizioni che potrebbero ripercuotersi sulle regionarie, sulla scelta dei candidati alla presidenza della regione e persino sui programmi da presentare ai calabresi in campagna elettorale. Proprio in queste settimane gli attivisti sono concentrati su quest'ultimo punto allo scopo di varare un programma condiviso, cosa non proprio scontata, viste le divisioni interne che rischiano di frenare la scalata del Movimento 5 Stelle ai palazzi del potere calabrese.